Continua senza sosta l'attività della Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Salerno a contrasto delle pratiche commerciali scorrette connesse alla pandemia da Covid-19. L'ultimo intervento, risalente ad una decina di giorni fa, ha evitato la commercializzazione di termoscanner non conformi alle direttive comunitarie, con potenziali danni alla salute dei consumatori. Nel corso dei controlli di routine effettuati presso alcune farmacie della zona, le fiamme gialle della tenenza di Vallo della Lucania hanno inizialmente scoperto 17 termometri ad infrarossi sprovvisti del marchio certificativo CE, venduti come regolari dispositivi medici. I prodotti importati dalla Cina, oltre a riportare una falsa certificazione di conformità, erano privi di qualsivoglia attestazione di affidabilità. L'esame della documentazione commerciale e contabile acquisita su delega della Procura della Repubblica di Vallo della Lucania ha poi consentito ai militari di risalire alle due società fornitrici con sede a Matera e a Fisciano, nella provincia di Salerno, presso le quali sono stati rinvenuti ulteriori 1700 articoli che presentavano irregolarità analoghe ai prodotti già sequestrati. Le aziende che si erano cimentate nell'importazione di questi articoli, con il solo fine di lucrare il più possibile, approfittando dell'incremento della domanda dovuta alla situazione emergenziale, non si erano preoccupate né della qualità né della sicurezza della merce, dal valore commerciale di oltre 180 mila euro. All'esito delle indagini sono stati segnalati all'autorità giudiziaria tre responsabili che dovranno ora rispondere del reato di frode nell'esercizio del commercio.